gaffa abbastanza clamorosa per alfonso signorini che questo pomeriggio ha raccontato in diretta tv parlando delle anticipazioni della puntata del grande fratello vip 7 di stasera che ginevra lamborghini avrebbe lasciato il fidanzato e che nella rottura sentimentale in qualche modo sarebbe coinvolto anche antonino spinalbese ma la verità sta da tutt'altra parte e la sorella di elettra lamborghini non se n'è certo stata zitta di fronte alle fake news fatte circolare dal conduttore vale la pena a questo punto fare un riassunto di quello che è accaduto fino ad oggi all'interno della casa del grande fratello vip ginevra lamborghini è entrata da fidanzata la cantante è infatti ufficialmente legata sentimentalmente a edoardo casè giorno dopo giorno in ogni caso la ex gfina cacciata per aver bullizzato marco bellavia si è avvicinata ad antonino spinalbese ex compagno di belen rodriguez tutti dai telespettatori agli altri inquilini si sono resi conto fin da subito che fra i due c'era una chimica evidente quando è uscita dalla casa ginevra lamborghini ha ripreso la sua vita di tutti i giorni tornando ovviamente a frequentare anche il fidanzato tuttavia parlando di quest'ultimo ginevra ha ammesso di star vivendo una fase di crisi sentimentale ma un conto è se si parla di una crisi magari momentanea e un altro conto è se si fa riferimento per di più in diretta e in forma ufficiale ad una rottura vera e propria c'è chi dice che ginevra sia gelosa di antonella perché in realtà sia ancora innamorata visto che appena lasciato il fidanzato di antonino ha dichiarato signorini non si sa se dando per scontato che ginevra fosse già tornata singolo se avesse avuto qualche particolare soffiata quel che è certo è che il racconto del conduttore non corrisponde al vero e rappresenta una falsità a tutti gli effetti ginevra lamborghini ascoltate le parole del presentatore ha subito tenuto a sbugiardarlo facendo chiarezza sulla questione l'influencer ha citato un'intervista concessa proprio al suo casa chi un paio di giorni fa dove aveva dichiarato l'esatto conto ecco le dichiarazioni di ginevra in merito fake news e o le prove nell'intervista di casa chi ho dichiarato esattamente il contrario